buongiorno a tutti signori buongiorno a tutti benvenuti in questo nuovo video e oggi siamo qui sul mio canale youtube per un'altra recensione di una serie tv e anche oggi siamo con un video su 13 reason why o 13 in italiano e oggi ragazzi andiamo a parlare della seconda stagione può fare un disastro devo distruggere questa serie perché veramente mi ha fatto cagare parto proprio così mi ha fatto un cagare mi ha fatto cagare l'anima veramente io non ce la posso fare mi sono dovuto annotare tutte le schifezze che mi sono dovuto subire in questi in questi 13 episodi stiamo parlando di un'ora episodio mi sono dovuto subire 13 ore di monnezza andiamo con ordine però in questo episodio si affronta in questo in questa stagione si affronta il processo del della madre di anna baker per incastrare lo stupratore di sua figlia e di molte altre ragazze ovvero bryce walker che come ricordiamo ha stuprato sia anna baker da proclam si vuol dire la protagonista della prima stagione che ormai è morta e jessica che è praticamente rimasta traumatizzata da questo stupro dopo che l'ha scoperto e ragazzi ma che ve lo dico a fare cosa se uno mi chiedesse cosa ha fatto jessica durante tutta la stagione basterebbe rispondere rispondere gnie 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 piangeva vedeva una ragazza piangeva vedeva parlava con una persona piangeva non riusciva a parlare con una persona piangeva jessica pianto per tutta la stagione e il fatto che sia stata volontata non è un buon motivo per per rendere così monotono un personaggio cioè questo personaggio ogni volta che intrependeva un dialogo con un altro personaggio io sapevo sempre come andava a finire lo sapevi oramai già la terza volta che l'hai vista parlare sapevi cosa succedeva ovvero personaggio chiede a jessica come lei stia jessica come vuoi che stia e poi iniziava a piangere iniziava a fare le sue solite monologhi mamma mia questa e quant'altro questa è jessica abbiamo chiuso il capitolo alex l'altro ragazzo che nel finale della seconda stagione della prima stagione io pensavo si fosse ormai suicidato invece no è vivo semplicemente talmente un coglione vedete quando è scritto male questo questo 13 è talmente un coglione questo alex che si è sparato proprio così in modo che il proiettile li passi in testa però non l'abbia ucciso lui semplicemente si è dimenticato tutto quello che era successo fino a un mese prima quindi non si ricorda le cassette non si ricorda di anna baker non si ricorda parecchie cose però parecchie cose si e man mano lui acquisterà le memorie che ve lo dico a fare anche lui come jessica passerà la stagione a sono uno storpio e non sono più niente non mi ricordo più niente perché poi chiaramente lui è rimasto disabile dopo questa dopo essersi tentato di suicidare e quindi non può neanche più camminare perché ha una gamba praticamente che non gli funziona più e tra l'altro non gli si addrizza il pisello che detto che si è davvero assurdo però in questa stagione penso che ci saranno almeno 40 minuti di lui che cerca di masturbarsi e non ci riesce poveraccio e fanno pensare talmente tanto questa cosa che non gli si addrizza il pisello che io mi ricordo solo questo di lui cioè tutta la stagione alex come jessica ha passato a lagnarsi pure lui e gne 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 perché in pratica non riusciva a ballare non riusciva a correre non riusciva a fare niente non gli si addrizzava manco il pisello poverino quindi veramente davvero un disastro questi sono alex e jessica in tutto il loro splendore adesso passiamo allo stupratore ragazzi bryce walker che è quello che mi è piaciuto di più a fa un culo alla faccia di tutti i personaggi moralisti di merda devi fare uno stupratore cazzo fallo uno stupratore un cattivo è un villain è un villain cazzo se ne frega se ne frega vuole solo pararsi il culo durante tutta la stagione non fa che mentire a processo infamare i suoi avversari minacciarli avvertirli e quando può li umilia quindi veramente questo è il villain fine o è l'unico personaggio scritto bene per il resto abbiamo clay il coprotagonista della scorsa stagione anche se anche lui era un protagonista possiamo dire che in pratica a queste visioni mistiche in cui vede anna che che questa serie talmente scritta male che queste visioni di anna la prima volta che è apparsa io pensavo che fosse veramente anna che fosse resuscitata cioè non sanno neanche farti capire cosa sta succedendo in un momento della sceneggiatura cioè non sanno farti capire che quella che lei sta avvenendo è una visione no clay passa interi episodi a parlare con questa visione ma proprio ci parla come se fosse una persona con i suoi sentimenti e sembra veramente che sia reale non c'è non c'è qualcosa tipo un po di offuscatezza un po di così dei momenti particolari in cui questa visione appare non gli appare praticamente sempre lui ha questa visione mistica di clay come di anna scusate come fosse un suo avatar una cosa del genere è davvero fatto malissimo ma tutto è fatto malissimo anche i flashback che nella stagione scorsa è una delle poche cose che ho davvero detto che erano carine cioè il fatto che ti facevano capire molto bene quando ci fosse il flashback e quando no sia grazie al cerotto di clay sia grazie al a quel tono che davano alle scene passate prima della morte di anna bene adesso in questa stagione non si capisce più un cazzo tu vedi un flashback e il 90 per cento delle volte non capisci se sia un flashback che è realmente accaduto quindi che parla di cose reali se sia un flashback che si è inventato anna se sia un flashback che si è inventato chi lo sta narrando perché durante questa stagione ricordiamoci che si affronta il processo quindi io in ognuno di ogni episodio in ogni episodio un personaggio coinvolto dalla cinesina a marcus a zack jessica tutti quanti vanno a testimoniare anche clay e chiaramente in ogni episodio in cui un personaggio va a testimoniare questo colui che testimonia diventa diciamo un po il narratore della storia e si vedono tutti questi flashback tutte queste cose che poi anna molte di queste cose che vengono raccontate per esempio la storia di zack che è stato finanziato con anna per parecchio tempo o la storia di justin che anche era veramente innamorato di anna e non la stava solamente sputtanando o tantissime altre cose che non vengono dette da anna dove cazzo le vanno inserire a livello di trama cioè ci sono dei buchi di trama spaventosi ma proprio madornali ma veramente che mi fanno incazzare io odio queste cose perché anna ha raccontato di personaggi come justin che l'hanno umiliata come zack che l'hanno fatta soffrire poi andiamo a vedere che zack è stato finanziato con anna dopo che l'ha fatto soffrire e allele era anche felice anzi scopavano come cammelli justin è andato a casa di anna una sera e l'ha fatto a dormire nel suo letto c'è veramente che cazzo era quest'anna era una necrofila una megalomane perché perché cazzo nelle cassette racconta una cosa e poi nella vita reale perché sappiamo che queste cose sono successe realmente ci viene detto dopo perché poi dopo si comporta in modo così positivo e poi veniamo a scoprire addirittura e qua io volevo uccidermi peggio di anna veniamo a scoprire appunto che anna era una bulla e non sto scherzando anna veramente una bulla c'è una ragazza che rivela in tribunale che anna nella sua vecchia scuola era una vera e propria bulla e bullizzava questa ragazza ma qui tu sei stata una bulla quindi sai cosa vuol dire stare dall'altra parte dopo che ti succedono quelle cose ti vai a chiamare tutti i ragazzi che ti hanno fatto soffrire addirittura scopriamo che ha avuto comunque dei dei rapporti con con bryce prima che tutte quelle tormenti li iniziassero e poi va a incidere delle cassette in cui si comporta come se fosse caduta dalle nuvole cioè anna baker ha rotto veramente i coglioni la odio cazzo la odio la odio non la sopporto più non la sopporto godo che è morta godo che è morta godo sarò cattivo ma godo a parte una cosa questa stagione è diseducativa al massimo perché perché la mamma di anna baker che era la prima responsabile di anna è andata a fare causa alla scuola ora io capisco che fai causa a bryce no ma che cazzo ci c'entra la scuola se anna baker si è suicidata in casa sua e il 90 per cento delle cose che sono accadute non sono accadute a scuola cioè la colpa è dei genitori signore e signori quindi non c'è niente da dire cioè è tutto sbagliato e questo sarà il titolo del video credo tutto sbagliato alex ne è uscito depravato jessica è praticamente sconvolta clay ha le visioni cioè veramente una cosa assurda non c'è nessun personaggio che ha fatto veramente qualcosa di grave anna tipo marcus tipo bryce che ammette la verità questa è una cosa buona questa è l'unica cosa che hanno fatto buono essere un po coerenti con i personaggi cioè marcus è stato un figlio di puttana e rimane figlio di puttana bryce anche il problema è uno solo che mi dovete spiegare problema è uno solo perché se bryce se justin se marcus fanno una cosa è negativo mentre se la fa anna se la fa clay se la fa sherry se la fanno tutti gli altri personaggi è una bella cosa vediamo a sapere in uno di questi flashback vi metterò le immagini qui in sovraimpressione che anna clay e altri ragazzi si sono drogati una sera ok questa questa momento momento di drogamento questa drogata di anna e clay viene mostrata come delle allucinazioni fantastici con anna che fa degli degli stereotipi del dei racconti mistici roba del genere tutto bellissimo poi ci fanno vedere le scene in cui da in cui justin ricordiamo chi è justin lui che va a vivere adesso a casa di clay perché lui viveva con un barbone clay lo recupera per farlo testimoniare infatti anche la justin testimonierà justin ci fanno vedere che si droga fanno vedere marcus che si tromba una ragazza e bryce che fa altrettanto perché quando certi personaggi trombano oppure si drogano ci viene mostrato in maniera così brutta mentre se zach che è un personaggio buono clay e anna si drogano scopano e fanno quello che vogliono è tipo bellissimo il sesso è bello la droga è bella cioè è un incoerenza totale quindi abbiamo detto buchi di trama assurdi personaggi scritti col culo perché perché alex jessica clay zack fanno tutte le stesse cose durante tutti gli episodi clay continua ad avere ste visioni e a chiedersi perché anna si è suicidata ormai lo sappiamo tutti perché si è suicidata porca puttana jessica piange alex piange zack ricevono continuamente ste minacce e bryce cammina per i corridoi consapevole che gli altri non diranno mai la verità cioè alla fine tutto questo baradano tutta questa queste cose che succedono tutti questi processi accuse il canse del porter accusa bryce e anche justin accusa bryce definendo lo stupratore tutte queste cose tutti questi tu stingiarmi alla fine la scuola vince il processo ma per forza per forza deve vincere la scuola perché la scuola non ha nessuna colpa in tutta questa storia cioè non non ha senso che questa serie voglia insegnare buone cose ai ragazzi questa serie finora mi ha insegnato solamente che se succede qualcosa è colpa della scuola certo dopo tutto questo macello che vedeva la mamma di la mamma di anna baker sconfitta in processo jessica dopo 13 cazzo di episodi si decide a confessare di essere stata stuprata andate a fanculo 13 e dico 13 cazzo di episodi a vedere questa che piange che non vuole confessare che cerca addirittura di far confessare ad altre ragazze quello che gli è successo a lei e poi un giorno si sveglia va in polizia dice questo m'ha stuprata vedete che volete fa e finisce tutto bryce viene arrestato viene arrestato anche justin perché chiaramente lui è stato ritenuto complice salvo poi scoprire nel tredicesimo episodio io nel tredicesimo episodio mi potevo sparare nel tredicesimo episodio scopriamo che a justin che era il complice viene andati sei sei mesi di carcere mentre a bryce che ero stupratore gli hanno dati tre con libertà vigilata ma allora andate proprio a quel paese ma allora ok questa è stata la stagione più brutta di tutte le serie tv che io abbia mai visto e termina con tyler down il fotografo che in questa stagione oltre al sessere fatto nuovi amici ha cercato più volte di di umiliare i bulli della scuola con atti di vandalismo viene violentato dagli amici di bryce che vabbè gli fanno cose orribili gli spaccano la faccia gli figli lo stupra lo stupra una scopa veramente una scena io mi sono messo a piangere lì e la serie finisce con questo ragazzo che prende un mitra non sto scherzando prende un mitra e mentre tutti quanti chiaramente festeggiano nella loro festa scolastica c'è anche bryce perché bryce è stato incolpato e tutto quanto anche se poi non è in galera però va bene va bene perché così deve andare la gente è felice perché è finita la stagione tutto qua questo arriva con un kalashnikov con un mitra che vuole uccidere tutti quelli dentro la scuola clay lo ferma e lo fa scappare con tony la stagione finisce così con clay che rimane come un coglione con un mitra in mano la polizia che sta arrivando molto probabilmente finirà nei guai e jessica e justin che intanto si sono di nuovo messi insieme perché così gli andava che dicono e ora che cazzo facciamo e finisce così bello bello ora mi dovrò vedere altri 13 episodi di sta merda in cui cercheranno di scagionare clay perché molto probabilmente sarà stato lo incolperanno di avere di avere perché l'hanno trovato con l'arma e questo brice walker è ancora libero cioè brice walker non ha fatto non ha subito praticamente niente era tranquillamente alla festa che si sbeveva un drink ok justin e jessica sono di nuovo insieme clay è felice perché chiaramente adesso si è liberato della memoria di ann vabbè l'uniche cose belle in questa in tutto questo sono le scene del funerale in cui in pratica clay fa questi monologhi lunghissimi mezz'ora di episodio se sono presi sti monologhi e in pratica la visione di anna di scompare perché ormai è stata fatta giustizia veramente una merda ragazzi una merda totale dai flashback che non si capiva veramente certi e certi flashback ragazzi io non capivo se eravamo nel presente nel passato nel futuro della storia certe immagini non capivo in che contesto fossero certi dialoghi erano stati buttati là solo per allungare gli episodi e arrivare a 60 minuti di episodio rende bruttissima ragazzi veramente inutile mi sono annoiato mi sono rotti i coglioni per tutta la stagione perché tutta la stagione non si è fatto altro che piangere e continuare a fare queste questi processi a fare queste confessioni in tribunale inutili sostanzialmente perché poi non cambiava mai un cazzo rispetto a quello che dicevano e vabbè davvero roba roba assurda gli adulti sono sempre più coglioni peggio della prima stagione e niente io vi saluto vota questa stagione non lo so secondo voi io gli voglio dare uno zero meno 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 infinito perché veramente fa cagare l'anima noi ci vediamo alla prossima vado a vomitare e se sono vivo ne farò anche la recensione della terza stagione perché adesso voglio vedere fino a che punto di schifezza si può arrivare bello a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.